Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri, ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta e saldirò al Quirinale dopo. Sincera, amichevole, intensa, lo ringrazio in questo ambito per la solidarietà che è espresso all'Italia per le vittime dell'attentato. Sincera, amichevole, intensa, lo ringrazio in questo obiettivo. Sincera, amichevole, intensa, lo ringrazio in questo obiettivo. Sincera, amichevole, intensa, lo ringrazio in questo obiettivo.